Ciao tifosi Juve, vi porto notizie calde dal mercato bianconero. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità dalla Juventus. La Juventus è vicina alla chiusura con un giocatore del Bayern Monaco. Il giocatore sarebbe arrivato sul mercato a gennaio. La Juventus è interessata al centrocampista del Bayern Monaco. Il giocatore in questione ha giocato qualche partita in Bundesliga e vorrebbe più minuti. Questa è la situazione. La Juventus guarda al mercato di gennaio. La Juve segue da tempo con interesse un giocatore in particolare. Si tratta di Ryan Gravenberch, uno dei pezzi premiati dei tedeschi. Nelle prossime settimane la Juve potrebbe affondare il colpo per provare a portare a Torino il centrocampista olandese. È un giocatore seguito da tempo, Gravenberch vuole giocare più partite. Ha giocato per il Bayern Monaco. Ed è insoddisfatto della situazione. Di seguito le parole del centrocampista riportate da TuttoJuve.com. Indignato per lo Zero Games da titolare? A dire il vero sì, lo sono. Ho sempre voluto giocare, ma l'allenatore sceglieva sempre altri giocatori. Devo accettare anche se è difficile. Speravo di avere più tempo ma cerco di mantenere la calma. Magari dopo la pausa avrò più spazio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gravenberch potrebbe dire addio al Bayern Monaco nel prossimo mercato di gennaio e la Juventus potrebbe essere la sua destinazione. Ryan Gravenberch ha attualmente solo 20 anni, e tu fan della vecchia signora, cosa ne pensi di Ryan Gravenberch? Può essere una buona opzione per il centrocampo? O no? Lascia la tua opinione nei commenti, la tua opinione è molto importante per la Juventus. Ciao al prossimo video!